Si era perso nei boschi del Casentino. A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco del comando di Arezzo coadiuvati dall'elicottero Drago 71. È successo in località Gavisserri, nel comune di Prato Vecchiostia, dove un escursionista, dopo essersi addentrato nelle foreste del Parco Nazionale del Casentino, ha perso l'orientamento e non ha più trovato la strada del ritorno, quindi la chiamata ai soccorsi ai quali ha fornito le proprie coordinate. L'escursionista è stato così individuato e recuperato con il verricello dagli edi soccorritori. Non è stato invece necessario l'intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza. Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti anche in località Rocca, una zona impervia del comune di Poppi, per soccorrere un ciclista che si era infortunato dopo una brutta caduta. Anche lui, recuperato con il verricello, è stato affidato al personale del 118.